Ce l'hai un agendino? Non ti hai mai visto qui? No, è casa di un mio amico, non è mia. Da qui si vede la mia latte. Davvero? Ha fatto l'occhiolino. Che sarebbe? Quando uno ti guarda dall'assù e vuole dirti che ti ha visto. Farebbe sentire meno soli. No, guarda che non siamo soli. C'è chi dice che gli alieni ci guardano. Effettivamente è stupido pensare che tutto quello spazio non ci sia. Sarebbe sprecato, no? Sì, infatti ho sentito che li chiamano i grigi. Arriveranno sulla Terra e prenderanno i migliori se li porteranno via. Che stronzi. No, ma guarda che vanno per parlare, per capire di più su di noi. Può anche essere, sai? Già, può essere. Ti ho sentita cantare prima dalla porta. Banane, lampone. Sei brava, eh? No, no. Quella la canto solo in bagno. Io faccio altre cose. I clash, i ramons, roba diversa. Tu che fai nella vita? L'idraulico. L'idraulico per essere i migliori? No, per quello... Per quello ci sto lavorando.